Ciao, io sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi una novità molto interessante, è il famoso o famigerato bananino, ovvero Nokia 8110 4G. Vediamo subito da vicino, dunque, questo telefono che arriva sul mercato in questi giorni a 89,99 euro, io di solito non parlerei di un prodotto di questo tipo, ma questo è un telefono che va oltre gli aspetti tecnologici. Non si può parlare di un vero e proprio feature phone, non è uno smartphone, è una via di mezzo grazie al sistema operativo che si chiama KaiOS. E abbiamo saputo proprio in queste ore che con il sistema operativo che c'è all'interno di questo smartphone sarà possibile utilizzare anche WhatsApp. Ma vediamo come è fatto il telefono, avete visto? Aprendo lo sportello si attiva il display, display che non è touch, si utilizza solo attraverso il comando di navigazione. Un lato invece completamente pulito, la parte superiore con attacco per le cuffie da 3,5 mm e connettore micro USB per la ricarica e poi il pulsante di accensione laterale. Sul retro fotocamera di 2 megapixel con il flash e poi nella parte inferiore della fotocamera abbiamo invece l'altoparlante. Nella parte bassa, a parte il microfono, non ci sono altri dettagli. C'è il punto dove fare leva per togliere il coperchio. Sotto il coperchio troviamo immediatamente il primo slot per la sim, un secondo slot per la sim, al di sotto della quale c'è invece l'alloggiamento per la micro SD. Questo è un telefono con una batteria rimovibile da 1500 mAh, praticamente la batteria che siamo abituati a vedere sui prodotti Nokia ormai da un milione di miliardi di anni, quelli ovviamente che hanno questo tipo di alloggiamento. E poi la tastiera. I tasti non sono spaziosissimi, devo essere sincero, lo sportellino non è mai stato comodissimo per raggiungere soprattutto i tasti più in basso, però tutto sommato devo dire che ce la si può fare per dita particolarmente grandi, quindi non è una soluzione comodissima da utilizzare. Ma come funziona esattamente? Cosa c'è dentro questo telefono? Andiamo a vederlo insieme. Vi mostro dunque un po' più da vicino questo Nokia in versione 8110, questa è la versione gialla sul mercato italiano, arriva anche la versione nera. Allora, abbiamo detto sulla parte posteriore la fotocamera da 2 megapixel e l'altoparlante per la riproduzione dell'audio, anche dei video all'occorrenza, perché una delle caratteristiche di questo prodotto è che c'è la possibilità di vedere anche i contenuti di YouTube. E a proposito di ciò che si può vedere, vediamo anche il funzionamento. Allora, un pulsante per mostrare le notifiche del telefono, il pulsante con cui si riagganciano le chiamate è anche quello con cui si fa il movimento indietro. C'è poi la possibilità di accedere a quelle che sono le parti del software che non sono immediatamente evidenti con la schermata home principale. Vedete, collegamento con YouTube, in realtà è solo una versione browser di HTML5 di YouTube, c'è l'assistente di Google, la radio FM, c'è Google Maps e poi la possibilità di fare la ricerca di Google. Vi faccio notare, peraltro, altra cosa secondo me interessante, è che c'è il browser con cui potete andare a navigare sui siti che sono compatibili dunque con la navigazione mobile. E vedete infatti il link per Facebook, per Twitter, per Wikipedia e poi per la ricerca di Google. In questo momento c'è da sottolineare una cosa importante, l'assistente di Google è in grado di rispondervi in lingua inglese, non c'è ancora una lingua diversa dall'inglese, mentre per quanto riguarda mappe è una versione indicizzata, dunque vedete, è come se voi andaste sul browser digitando maps.google.com, a quel punto potete fare la ricerca di un indirizzo specifico oppure vedere quelli che sono i punti di interesse in una determinata zona. Vedete, queste sono le funzionalità base con cui potete attivare il sistema di navigazione che vi indicherà la strada. Io devo dire che ieri ho utilizzato la mappa in un paio di occasioni per trovare un percorso, non c'è però poi la navigazione punto a punto che vi guida proprio durante il vostro percorso. Come detto c'è la radio FM, come sempre con questo tipo di telefoni c'è la possibilità di ascoltare solo quando c'è l'auricolare collegato, perché l'auricolare è anche l'antenna che avete a disposizione e poi vi mostro anche la fotocamera in azione, diciamo 2 megapixel con questo movimento del, allora nega, l'ho già detto migliore volte ma mi ho sempre dimenticato di confermare, con questo movimento dei tasti cursore passate dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera, ma insomma né nell'uno né nell'altro caso avrete sicuramente dei risultati particolarmente esaltanti. Ci sono caratteristiche curiose di questo Nokia 8110 4G, all'interno c'è un processore Snapdragon, il Qualcomm, scusate, un processore Qualcomm Snapdragon 205, ci sono 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna, l'espansione attraverso microSD fino a 64 GB, abbiamo detto la batteria da 1500 mAh, c'è il Bluetooth 4.2 con lo standard A2DP, quindi per la trasmissione della musica anche alle nostre cuffie. La certificazione AP52, beh insomma diciamo che può essere benissimo un telefono di backup nel corso del fine settimana se non volete tante rotture di scattole. Voglio sapere, a voi piace? Grazie a tutti! Grazie a tutti!